I cannoni d'acqua è un gruppo folkloristico, il primo volo della Turkish, compagnia numero uno al mondo per numero di paesi collegati, 109, viene accolto così nell'aeroporto di Bari, un benvenuto caloroso per una compagnia che collegando Bari al Lab di Istanbul, di fatto apre le porte della Puglia a turisti di mezzo mondo. A fare i numeri ci pensa il capo marketing della compagnia turca Hamet Olmustur, 55 milioni di passeggeri nel 2014, l'obiettivo di 65 per il 2015, un milione e mezzo solo in Italia. Cifre che spiegano perché l'amministratore unico di aeroporti di Puglia, Giuseppe Acerno, definisce la Turkish Airlines a Bari allo stesso tempo un orgoglio e una grande opportunità. Lo sa bene l'assessore al turismo Silvia Godelli che ha accolto la delegazione turca a bordo pista e lo sa anche il sindaco di Bari Antonio De Caro che nel collegamento vede il ponte tra Oriente e Occidente, i collegamenti tra Bari e Istanbul avranno una frequenza di 4 volte a settimana.